Questo spazio è realizzato in collaborazione con Fondazione CR Trieste. Eccoci pronti per un'altra puntata di Trieste in diretta che vi terrà compagnia fino alle 18.33. Nella seconda parte avremo ospite il maestro Massimo Belli che è il direttore dell'orchestra Ferruccio Busoni con la quale parleremo del concerto per la speranza che si terrà lunedì prossimo alle ore 21 in Cattedrale a San Giusto e che Telequattro trasmetterà in diretta. Laddove nella prima parte siamo in compagnia del professor Walter Gerbino, docente merito di psicologia all'Università di Trieste e del professor Claudio Tonzar dell'Università di Urbino che è direttore scientifico del Festival della Psicologia della Flui Venezia Giulia. Grazie a entrambi gli ospiti per essere venuti a trovarci. Con i nostri ospiti parleremo di due avvenimenti. Uno è la mostra che si tiene al Museo Revoltella fino al 30 settembre, i pupoli di Canizza, l'anima artistica di un gigante della psicologia e poi invece appunto il Festival della Psicologia che ha già avuto inizio con un appuntamento lo scorso 25 agosto, quindi martedì l'altro e che però poi continua. Allora io direi, cominciamo dal professor Gerbino per parlare, poi dopo logicamente immagino che i discorsi andranno ad intersecarsi perché è anche giusto che sia così, per parlare di questa mostra e soprattutto anche di che cosa sono i pupoli di Canizza. Allora la mostra è stata appena inaugurata due giorni fa e il sottotitolo è Canizza Scienziato e Artista. Cioè quello che è l'obiettivo principale di questa mostra ospitata alla Revoltella è presentare due aspetti di Canizza, uno scienziato che ha fatto delle dimostrazioni visive, diciamo che ha creato delle dimostrazioni visive straordinarie, note in tutto il mondo per la loro efficacia, ma anche di un artista, di un pittore, che dipingeva inizialmente per proprio piacere personale infilando però di tanto in tanto qualche tema diciamo vicino alle sue ricerche scientifiche all'interno della produzione artistica, che peraltro rimane una produzione artistica autonoma, che è andata avanti per circa 20 anni per il proprio conto. La mostra non riguarda tutta la produzione di Canizza in ambito scientifico e artistico, perché la cosa sarebbe stata impossibile, ma i punti di contatto tra queste due attività organizzata in otto sezioni, corrispondenti a otto momenti, diciamo, otto problemi forse meglio, della ricerca affrontata da Canizza nei due ambiti. Possiamo dire che Canizza vedeva la sua attività artistica diciamo come disgiunta dagli interessi scientifici, però in un certo senso, in alcuni suoi commenti, complementare. E vorrei sottolineare questo aspetto di complementarietà. Nel suo lavoro scientifico Canizza si è occupato soprattutto di un aspetto della formazione degli oggetti visivi, e cioè il ruolo che hanno i contorni. Nel determinare la forma degli oggetti, la proprietà fondamentale che sta dietro al fatto che noi riconosciamo un oggetto come un qualcosa piuttosto che un altro, è dotato di una forma. Ma la forma dipende non soltanto dai contorni, dipende anche dalla sua costituzione interna, della costituzione interna della superficie. Però su questo Canizza in ambito scientifico non ha prodotto molto. Ha invece prodotto una ricerca sistematica di tipo artistico, andando ad esplorare la varietà di tessiture che possono essere generate per produrre superfici con una loro propria caratteristica. In particolare superfici che si muovono in rilievo, che si contrappongono l'una all'altra e che poi alla fine determinano l'esistenza di oggetti un po' strani, fantasiosi, che comunque ricordano poi degli oggetti della natura, delle amebe, delle cortecce. Alla fine Canizza dava un nome, dopo aver prodotto questo oggetto sulla tela, dava un nome che era in qualche maniera legato all'oggetto del vocato. Però la cosa che gli stava a cuore era sottolineare che il processo di produzione era un processo dal basso, cioè partiva dal gesto artistico. In un qualche maniera totalmente opposto invece è il modo in cui nascevano i pupoli, le figure in ambito scientifico, cioè partivano dall'idea di dimostrare qualcosa, in genere di confutare una teoria, di dimostrare che qualcosa era falso. E per questo Canizza era un mago, nel senso che riusciva a trovare delle dimostrazioni efficaci, contro le quali era difficile controbattere, che per esempio dimostravano, nel caso del famoso triangolo, dimostravano che per generare una figura geometrica non è necessario contornarla tutta, non è necessario che ci siano ovunque i contorni, come normalmente accade quando noi disegniamo, tendiamo a disegnare tutti i contorni di una figura, oppure come accade quando noi riprendiamo un oggetto mediante una fotografia. Quasi tutto il contorno dell'oggetto è, salvo casi particolari, è presente nell'immagine. Il triangolo di Canizza è un oggetto che esiste, con una sua particolare salienza, dispetto del fatto che molta parte del suo contorno non c'è. ci sono casi limiti in cui soltanto una piccolissima parte c'è, dal punto di vista del dislivello di chiarezza nell'immagine, pure l'oggetto è molto saliente. E questa è una sezione. Questo poi magari torniamo perché c'è un discorso che mi interesserebbe fare. Parleremo anche della Canizza Lecture, che è stata fatta l'altro ieri. Però intanto saltiamo un pochettino, parliamo invece del Festival della Psicologia in Friuli Venezia Giulia. Perché tra l'altro? Come è venuta questa? Non si associa l'idea di psicologia a un festival, per dire la verità, però forse sarebbe anche il caso di cominciare a muoversi in tal senso, voglio dire. Sì, l'idea non è nuova. In realtà l'anno scorso abbiamo già realizzato in Friuli Venezia Giulia, il Trieste in particolare è stata la nostra sede centrale degli eventi, un primo festival della psicologia in Friuli Venezia Giulia. Si sita un po' in quell'alveo dei festival scientifici di natura divulgativa, cioè l'idea è far arrivare contenuti scientifici però con una modalità semplice ma parallelamente anche corretta da un punto di vista dei riferimenti scientifici. Che è la cosa più difficile immagino, no? Sì, è molto complessa la cosa, è sempre direi, è una delle cose più difficili quando ci viene chiesto in realtà di fare una relazione da persone magari che studiano in un contesto specifico, magari molto settoriale, riuscire a spiegare gli esiti di un processo di ricerca a delle persone che non sono degli esperti e quindi noi ci rivolgiamo totalmente alla popolazione, questo è il nostro target, ma è un elemento molto importante in tutte, direi, in tutte le aree scientifiche e non a caso il festival della psicologia è situato quest'anno all'interno del festival Science in the City, quindi direttamente in relazione con ESOF, abbiamo partecipato a un bando assieme tra l'altro anche all'Università degli Studi di Trieste, il Comune di Trieste e altri enti sia pubblici che privati che si occupano di arte e di cultura perché un'altra caratterizzazione del festival è parlare di scienza ma mettendo in relazione i contenuti scientifici, in questo caso la psicologia, con contenuti di natura artistica, cioè spiegando e cercando di portare avanti un ragionamento sui fatti con un lessico di natura sia diretta ma anche un po' divergente, quindi questa è un po' la caratterizzazione del festival. Ecco, queste le immagini che stiamo vedendo si riferiscono all'appuntamento proprio di martedì scorso che è avvenuto dove? Al teatrino Franco e Franca Basaglia, proprio a Trieste, al parco di San Giovanni era un po' l'evento, un evento diciamo inaugurale, un po' di lancio del festival perché poi tutti gli altri eventi avranno invece una cadenza più ravvicinata nel mese di ottobre e di novembre ma questo primo evento aveva anche, come stavo spiegando, una duplice componente abbiamo avuto una relazione da parte del professor Vario Ortigara che tra l'altro è stato lo speaker anche di cui parlerà poi il professor Gervino nella Canizza Lecture, quindi abbiamo approfittato di questa collaborazione il tema era il rapporto tra uomo e animale, animali meglio, quindi visto che il tema specifico del festival che collega un po' tutti gli eventi è quello di mettere in luce la distanza che c'è tra le credenze che le persone hanno rispetto ai fenomeni psicologici e le conoscenze che sono in psicologia abbiamo cercato di partire dal proprio rapporto uomo-animale per mettere in luce alcune credenze che le persone generalmente hanno sul mondo animale in relazione all'uomo sono errone tipicamente non so, il professor Vario Ortigara ha scritto anche un libro su questo, si pensa che la gallina sia un animale non intelligente invece sappiamo che i pulcini sono in grado di fare dei semplici computi, sono in grado di discriminare delle grandezze sono in grado di mettere in atto tutta una serie di processi cognitivi complessi, così come altri animali che noi riteniamo invece assolutamente non pertinenti all'animale, quindi questo era un po' lo stivolo e di conseguenza c'è stato uno spettacolo teatrale realizzato specificatamente per il festival dall'Associazione Culturale Teatrale degli Asinelli che ha scritto un testo proprio che ha messo in luce tutte quelle che sono una serie di pregiudizi che l'uomo ha nel riguardo degli animali quindi abbiamo cercato di collegare... questo momento proprio si riferisce credo anche allo spettacolo esattamente, esattamente, quindi questo è stato un po' l'argomento che abbiamo sviluppato in questa prima giornata triestina del festival da dove invece professor Gerbino mi veniva in mente, qui devo far riferimento ai miei studi universitari che non sono stati di psicologia ma di storia dell'arte, però non abbiamo detto che Canizza ha insegnato a Trieste e un collega di Canizza, più che un collega credo era il professor Giosefi che è stato il mio docente di storia dell'arte e che ti insegnava molto a fare dei collegamenti delle volte anche piuttosto azzardati ma alla fine neanche tanto quello che lei diceva a proposito del triangolo di Canizza mi ha fatto tornare in mente una volta una discussione che ho avuto con un mio amico Ottorino la ringoiatra, il quale mi ha detto guarda che fondamentalmente noi non è che sentiamo tutto di una parola, sentiamo una parte della parola poi dopo la ricostruiamo con un processo rapidissimo sulla base delle nostre esperienze, sulla base anche appunto del nostro passato quindi è un discorso abbastanza simile, mi dica di sì così faccio io bella figura e non faccio far brutta figura a Giosefi soprattutto Dico di sì sul fenomeno, cioè i fenomeni di completamento I fenomeni di completamento di ciò che c'è nello stimolo che può essere uno stimolo acustico nel caso del linguaggio, dei suoni oppure uno stimolo, un'immagine visiva il fenomeno del completamento è sicuramente presente ovunque e l'interpretazione teorica dei fenomeni di completamento che varia e su questo Canizza aveva un'opinione ben precisa e cioè che si affannò a dimostrare anche il senso di questa sua posizione è sbagliato pensare che tutti i fenomeni di completamento dipendano dall'esperienza passata e cioè dal fatto che noi abbiamo una conoscenza degli oggetti basata sulla nostra interazione personale con gli oggetti fino a quando siamo piccolini e che questo ci fa vedere certi completamente piuttosto che altri Di questo ha parlato anche Valortigara nella sua conferenza nella Canizza Lecture di mercoledì a proposito delle competenze del pulcino e qua ci ricolleghiamo con il tema della sottovalutazione se vogliamo che il senso comune fa di certe capacità di certi animali in particolare Il pulcino dimostra una capacità innata e questo lo si può controllare particolarmente bene nel caso del pulcino prendendo i pulcini alla schiusa una capacità innata di vedere gli oggetti completi anche se sono parzialmente coperti quindi si comporta rispetto ad un oggetto parzialmente coperto come se fosse intero e questo non lo possiamo attribuire all'esperienza passata perché nel caso del pulcino almeno siamo certi che alla schiusa non ha avuto esperienze visive di alcun tipo quindi questo è il problema del senso comune che a volte nel senso comune si usano delle scorciatoie interpretative cioè si ricorre per esempio questo è un caso tipico all'esperienza passata individuale per dire sono abituato a vedere il mondo fatto così e quindi anche in questo caso l'ho visto così questo molte volte fa ignorare il problema scientifico sottostante e non fa capire che invece da qualche parte le capacità visive devono essersi manifestate in assenza di esperienza passata oppure in presenza di un'esperienza assolutamente molto primitiva e questo è il caso dei bambini piccoli dei neonati che aprono gli occhi su un mondo e lì è difficile controllare diciamo se hanno nelle primissime ore un'esperienza specifica di oggetti però per quel che si può sapere già il bambino appena appena nato ha delle preferenze visive e ha delle preferenze visive che noi tendiamo a sottovalutare pensavo se il termine esperienza futura è un ossimoro o no e beh un pochino sì a meno di non entrare nella fantascienza dove invece l'esperienza futura è molto presente allora il festival è itinerante in regione nel senso che gli appuntamenti successivi che credo rimanderanno sì all'autunno inoltrato quindi ad ottobre si terranno in altre località della regione il primo è insomma abbastanza curioso per dire la verità perché psicologia e traffico riflessioni sulla percezione del rischio viario e sulla sicurezza stradale sì è un tema che sembra apparentemente un po' strano ma che in realtà appartiene a un campo sia di ricerca sia anche di applicazione professionale abbastanza direi molto diffuso soprattutto nei paesi dell'area germanica è chiaro che l'incidentalità stradale sia legata fortemente all'errore umano questo è assodato nelle menti quindi la psicologia occupandosi del comportamento umano del funzionamento del cervello e di tutto ciò che ne consegue è chiaro che ha applicato una serie di conoscenze in questo per cercare di predire di studiare quelli che sono i fenomeni del comportamento alla guida degli esseri umani per fondamentalmente prevenire gli incidenti stradali e mettere in atto delle procedure che possano limitare questo enorme problema sociale sanitario, sociale e anche economico che sono le conseguenze degli incidenti stradali quindi il tema viene affrontato nell'ambito di quello che è una teoria più generale che è la percezione del rischio che assume che gli esseri umani non è che sappiano necessariamente valutino matematicamente o statisticamente il rischio di un comportamento ma hanno una percezione soggettiva di questo rischio che dipende da tanti fattori che poi necessariamente non corrisponde a quello che è il rischio reale e il traffico, la guida è un esempio di un comportamento che è oggettivamente rischioso ma non viene percepito da nessuno di noi come particolarmente rischioso perché è controllabile perché noi comunque ci autovalidiamo le nostre capacità di guida a un livello elevato e così via quello che vorremmo mettere in luce in questo specifico contesto sempre nell'ottica di sfatare le credenze sul traffico ce ne sono tantissime donne e motori gli anziani che sono un problema enorme per la guida parleremo un po' di questi argomenti ecco perché le faccio l'esempio dell'anziano non è vero in realtà che in assoluto l'ultraottantenne sia un rischio per il traffico in paesi ci sono alcuni paesi dove normativamente è stato introdotto come dire il ritiro della patente oltre 80 anni in realtà gli studi hanno messo in luce certamente che ovviamente gli incidenti come dire i problematiche legate all'incidentalità diretta di questi soggetti ovviamente sono diminuiti però sono aumentati tutta un'altra serie di problematiche concernenti gli ultraottantenni ad esempio le morti dei pedoni ultraottantenni gli incidenti gravi legati a fratture degli anziani che usano i mezzi pubblici quindi come dire è una problematica abbastanza ampia è interessante rilevare poi il relatore abbiamo un relatore che è un esperto in questo settore che è il dottor Max Dorfer di Bolzano che è responsabile di un servizio specifico proprio che si occupa di valutazione dell'idoneità alla guida è uno degli esempi italiani di eccellenza in questo settore l'anziano in realtà è vero che può avere tutta una serie di elementi o cognitivi o di altro genere che possono concorrere a creare dei problemi potenziali alla guida però è anche vero che questo ci sono degli studi specifici che l'hanno dimostrato che molto spesso è consapevole di questi limiti e quindi essendo consapevole compensa questi limiti con delle strategie ad esempio non si mette tra virgolette in situazione complessa una situazione complessa potrebbe essere che sono un cambio di corsia oppure inserirsi all'ingresso di una città in un incrocio molto articolato oppure guidare con brutto tempo con scarsità di luce e l'anziano tende a non farlo proprio perché consapevole della difficoltà dei limiti e quindi di fatto quello che non è vero sostanzialmente che l'anziano alla guida sia un pericolo ovviamente vanno valutati casi specifici caso per caso io ricordo c'è stata quella protesta di Margherita che fece anche abbastanza scalpore quando volevano togliere la patente prese cappello per dire prese cappello per dire la verità ma ci volevo fare una domanda ad entrambi credo che mai come in questo mai come in questo periodo l'avverbio psicologicamente sia stato utilizzato o comunque il concetto di psicologia sia stato utilizzato parecchio i medici quando si parla di coronavirus tutti quanti dovevano essere anche tutti dicevano bisogna essere un po' psicologi come se uno potesse essere psicologo un tanto al chilo o un tanto alla bisogna però è vero che è un come dire un un aggettivo un avverbio che si che si sente abbastanza spesso psicologicamente a voi che cosa che cosa provoca quando quando lo quando lo sentite noi anche anche noi giornalisti dicono eh ma giornalisticamente parlando e di solito poi seguono una considerazione che può qualche fare con il giornalismo vero quando sentite appunto questo avverbio fate come i cavalli di frankenstein junior quando sentono blucher oppure lasciate perdere posso rispondere se si anche io ho notato e ho cercato di seguire con attenzione l'uso del verbio psicologicamente o del attributo psicologico no fattore psicologico eccetera nel linguaggio comune e lascio perdere quindi non nelle persone che ne fanno un uso in qualche modo tecnico ma nel linguaggio quotidiano come si dice pane al pane vino al vino così psicologicamente eccetera io ho trovato tendenzialmente coerente l'uso cioè non detto a caso si riferisce in particolare ad un significato ad un senso e cioè che nelle persone c'è un vissuto delle situazioni una rappresentazione delle situazioni che può essere diversa da come le cose stanno in realtà ma che non possiamo trascurare e quando uno dice che conta l'aspetto psicologico per esempio vuole fare riferimento a questo dato di realtà molto rilevante cioè che le persone si rappresentano la realtà qualunque sia il tipo di eventi può essere appunto gli eventi legati alla pandemia credo lei si riferisse a questo ma possono essere anche situazioni di crisi di altra natura individuale sociale eccetera e quindi quello che conta non è come stanno le cose ma come le persone le vivono se le rappresentano questo è un aspetto che non può assolutamente essere trascurato naturalmente questo uso è molto selettivo perché invece la psicologia scientifica si occupa di tantissime altre cose di tantissimi altri processi anche di questi processi cioè della rappresentazione della realtà sociale per esempio ma non è soltanto di questo che si occupa la psicologia a volte devo dire la psicologia trascura l'importanza o ha trascurato in certi passaggi della sua storia questo aspetto che invece è molto radicato nel senso comune cioè è molto le persone sono molto sensibili al significato che ha l'attitudine per esempio delle persone verso gli eventi professore Tonza sì ma mi ha sollecitato diverse riflessioni beh da un lato mi viene da dire che la psicologia a livello sociale e delle persone anche in Italia ha fatto una strada è diventata c'è stata un'azione insomma di conoscenza condivisa sempre maggiore che ha portato a certo ad avere delle conoscenze ingenue da un lato che era il discorso che facevo prima ma anche ad avere sempre maggiore consapevolezza della rilevanza di questa dimensione umana nei vari contesti e questo è un po' una delle possibili spiegazioni di quello che lei sta dicendo ma ad esempio ai professionisti spesso che lavorano sul campo arriva un tipo di richiesta che è congrua generalmente congrua rispetto a quello che fanno questo questo significa che le persone come dire intanto ritengono importante rivolgersi agli esperti di questa disciplina e che anche sanno un po' di che cosa si occupa e che tipo di utilità sociale o sanitaria può avere quindi questo è sicuramente un elemento dall'altro lato è chiaro che può esserci rischio dello psicologismo in quello che lei dice che ci sia una banalizzazione talvolta ovviamente dipende dai contesti dalle situazioni faccio un esempio con uno dei temi che tratteremo nel festival nell'ultimo nell'ultima giornata del festival stesso che abbiamo una giornata che abbiamo chiamato basta la salute che è una riflessione sostanzialmente sulla felicità umana che vuole mettere un po' in discussione anche questo assunto che la salute fisica sia l'elemento centrale nella felicità umana dove chiaramente ci sono tutta una serie di studi che nell'ambito soprattutto della psicologia positiva che mettono in luce come invece ci siano dei fattori interni alla persona e anche alla dimensione sociale alla soddisfazione relazionale amicale familiare così come anche l'equilibrio interno percepito da una persona che abbiano un ruolo più importante della salute fisica addirittura nella percezione soggettiva della felicità quindi questo significa che le persone sono consapevoli in qualche maniera anche di questo se identificano richiamano così spesso la dimensione psicologica proprio perché è importante per la loro vita in qualche maniera allora siamo in siamo in chiusura io volevo ricordare che il la mostra i pupoli di canizza è curata oltre che dal professor gerbino anche da paolo bernardis e carlo fantoni e credo c'è anche l'università dietro professore ok tutti questi sono universitari ci sono altre iniziative diciamo collaterali alla alla mostra come la lecture oppure no la mostra continua la mostra fino al 30 ci sono le visite guidate possono essere prenotate sul sito del museo Revoltella c'è tutta l'informazione in merito la mostra ripeto continua fino alla 30 di settembre anche per gli eventi del festival della psicologia giova ripetelo ma insomma ormai tutti gli eventi sono anche come si può dire a prova di virus nel senso con tutte le si svolgono in sicurezza proprio per questo bisogna prenotarsi assolutamente assolutamente è necessaria la prenotazione per tutti i 5 eventi che restanti del festival trovate sia sul sito dell'associazione capofila che lo promuove cioè psicoattività sia nella pagina facebook o gli altri social tutte le indicazioni per la prenotazione e l'assegnazione del posto allora io ringrazio il professor Walter Gerbino e il professor Claudio Tonzar per essere stati con noi grazie davvero buon proseguimento buon lavoro noi ci fermiamo per la pubblicità e poi cambiamo ospite e cambiamo argomento e trieste